E' un confronto per 4 anni, sul miglio sono i 9 al via. In prima fila al numero 1 Trinity di Poggio, Warner Martellini, 2 Talita Schesi, Enrico Bellei, 30 Tank OP, Roberto Andrietti, 4 Teruara S, Gaetano Di Nardo, 5 Trini del Circeo, Roberto Muscolini, 6 Tollyslide SM, Vincenzo D'Alessandro Junior, 7 Tourbillon Spin, Giuseppe Pistone, in seconda 8 Tiago MTT, Antonio Di Nardo, 9 Tanto Bella, Massimo Andreani. Con calma, Turbillon Spin, la macchina che stacca, Talitas Cage, all'esterno è molto veloce, Tollyslide SM all'attacco di Talitas Cage, Tollyslide che scende allo steccato su Talitas Cage. In terza posizione alla corda si sistema Tatanka OP, poi dalla seconda fila Tanto Bella, a largo viaggia Teruara S, 200 iniziali in 13,5 e adesso il passaggio ai primi 400 metri in 28,5, Tollyslide, Talitas Cage, poi ancora Tatanka OP, tanto bella, a largo Teruara S, si porta presso Turbillon Spin, a questo punto c'è da gestire col cronometro il passaggio ai primi 600 in 44,5, avanza all'esterno Tiago MTT, si oppone Talitas Cage che si affaccia sul battistrada, Tollyslide guadagna una posizione lungo la corda Tatanka OP, i primi 800 metri vanno via in un minuto e cinque decimi, Tollyslide al comando Talitas a largo, in corda Tatanka a largo Tiago MTT, poi tanto bella, il primo chilometro di Tollyslide SM sul piede dell'1,14,5, Talitas Cage si impegna al suo esterno, presso la via del largo anche Turbillon che ora segue in terza pariglia esterna all'imbocco della curva conclusiva, Tollyslide alla corda Talitas che attacca, poi lungo lo steccato si mantiene, Tatanka OP a largo Tiago MTT in terza, sposta Turbillon Spin, Tollyslide in vantaggio, Talitas che sfera l'attacco, Tollyslide che prova la difesa, Talitas che attacca e rimonta il rivale in terza Tiago MTT, passa, passa Talitas Cage, l'attacco di Tiago MTT a Talitas che cerca la difesa, Tiago che insiste, Tiago MTT che passa in vantaggio, Tiago MTT, poi Talitas Cage e Tatanka OP in linea, quindi Turbillon Tollyslide, ancora un successo per Tiago MTT, se non vado erato è la quinta vittoria nelle ultime sei uscite per il figlio di Sissi Esciachiti, allenato da Giorgio D'Alessandro Senior, per i colori della scuderia Vidimar con in salchi un perfetto Antonio Dinardo, uno quattordici e mezzo, quattordici e sei la media al chilometro, Tiago MTT, Antonio Dinardo a quota di 5.41.